Milan, rientra Calabria, il nuovo può giocare anche da centrale. Facce note a Milanello. La squadra oggi riprende ad allenarsi e tra i giocatori in campo con Pioli è atteso a breve Davide Calabria, oggi al massimo domani riprenderà ad allenarsi con i compagni. Il capitano è un altro pezzetto del mosaico Milan che torna al suo posto, non gioca dal 10 febbraio. Milan Torino 1-0, in gruppo ha la sua importanza. Nel Milan di Pioli è un titolare e soprattutto il capitano. Pioli con lui può allargare le rotazioni e, in questo senso, attenzione a una novità. Calabria contro il Toro è entrato al posto di Seile Maekers ha giocato da centrocampista di destra. Nella posizione che abitualmente occupa Messias. Nel nuovo 3-4-2-1 però i compiti del terzino destro ruolo classico di Calabria vengono ripartiti tra due giocatori. E allora, è probabile che Davide venga usato anche, forse soprattutto, da centrale di destra. Pioli così avrebbe un nuovo potenziale titolare in due ruoli e un'alternativa testata a Calulù. Che di questi tempi sta riposando pochissimo. Calabria in quella posizione può essere utile per l'attenzione difensiva e per come gioca la pala in impostazione. Si vedrebbe meno nella metà campo avversaria ma il nuovo Milan ha altri equilibri e la grande partita giocata contro l'Atalanta dimostra come la squadra sia tornata ad aggredire. A difendere in avanti, a controllare il ritmo della partita. E poi, i casi di terzini diventati centrali di destra o di sinistra non mancano. La Juventus ieri ha giocato con Danilo e Aleksandrovicini a Bremer, due esterni che Pirlo ha convertito. Un gioli come Darmian, nell'Inter, può giocare da quinto e da terzo di difesa, cambiano i compiti. Nomi rendimento. E, naturalmente, in questo senso un riferimento è Gasperini. Che tentò l'esperimento, con successo, già al Genoa con Crescito e un ex milanista come Antonini. Con Fiorentina e soprattutto Tottenham a Malorizzonte, Pioli aggiorna la lista dei giocatori a disposizione. Il muscolo otturatore dell'anca di Calabria sta meglio e anche Ben Nacer accelera. Il problema a bicipite femorale sinistro si fa sentire e sempre meno il Milan lo aspetta, nel progetto di Pioli mancano soltanto lui. La guida in mezzo a campo. Firenze, in questo, ha importanza relativa. Per il Milan è importante ci sia sul volo per Londra.